Su autorizzazione del procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che nell'ambito di un'indagine coordinata dalla distrazione distrettuale antimafia di Napoli i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di cinque soggetti ritenuti gravemente indiziati dei deliti di rapina e porto di detenzione abusivo di armi solo per uno degli indagati oltre che minaccia e violenza privata tutti i delitti aggravati dal metodo mafioso. I fatti risalgono al giugno 2021 quando la vittima è stata in più ripresa aggredita in quanto si trovava nel comune di Melito di Napoli suo luogo di origine dal quale si era allontanato alcuni anni fa perché legata ad un esponente del clan a sua volta allontanato sia dal territorio in seguito a contrasti interni insorti nell'ambito del clan amato pagano. Le indagini hanno permesso di ricostruire il coinvolgimento degli arrestati negli episodi delittuosi culminati nella sottrazione violenta dell'autovettura evidentemente finalizzati a riaffermare la forza di intimidazione e riferio controllo del territorio dal parte del clan amato pagano storicamente egemone tra gli altri nel comune di Melito di Napoli.